Il network marketing. Intanto perché sono così grato? Perché ho questo debito di riconoscenza verso questa industria? Perché nei miei primi 13 anni io ho iniziato a imparare tutto da lì. Avevo 19 anni, figlio di un imbianchino, di una casalinga e il mio percorso è iniziato in quella maniera. Se io non avessi incontrato il 28 ottobre del 1995 il network, serenamente posso testimoniarvi che oggi non sarei qua. Quindi tutto inizia lì, è così che mi apro alla disponibilità costante di imparare nella vita, è così che imparo che la ricerca della felicità è la felicità, è così che imparo ad imparare. Per cui sono profondamente grato a questo settore e ci sono tre cose che ci tengo con tutto me stesso che arrivino a chiunque inizia a fare questa attività. Quindi se stai ascoltando questo video ti prego salvali e dali a chiunque inizia questa attività. Perché numero uno, la maggior parte delle persone inizia questa attività perché si innamora del piano marketing, si innamora dei soldi, si innamora della posta economica, si innamora del fatto che può diventare milionaria ed è stato così anche per me. È stato così anche per me ai 19 anni, tra l'altro è stato così anche per me il fatto di poter aver fatto la svolta economica, il mio primo milione l'ho fatto con il network. È stato così anche per me che mi sono intrippato di questa possibilità concreta per un ragazzo normale di fare qualcosa di straordinario. C'è una cosa però importante, tutti si innamorano dei soldi, però bisogna innamorarsi delle persone. Perché se ti innamori dei soldi significa che per i soldi sarai disposto a vendere le persone, per i soldi a un certo punto rischierai di perderti. Invece i soldi li fai se ti innamori delle persone. Ricordati sempre e per sempre che tu guadagnerai in base a quanto valore porti nella vita dei tuoi clienti, dei tuoi collaboratori, dei tuoi colleghi, della tua azienda, della tua community. Numero uno. Numero due, ricordati questo aspetto fondamentale, che non tutti diventano milionari, eppure tutti diventano migliori. Io ho incontrato ormai 450.000 persone nelle aule che facevano e fanno network. E ovviamente sono pochi, come in tutte le attività, quelli che fanno la grande differenza, che diventano milionari. Però tutti, ma proprio tutti, grazie al network, hanno fatto dei salti in avanti, hanno aperto delle attività, sono riusciti a tirarsi su dal divano e darsi una mossa, hanno smesso di aspettare, hanno iniziato ad agire. Tutti, ma proprio tutti, sono diventati migliori. Il vero regalo, il vero dono nascosto di questa attività non ha a che vedere con il risultato solo economico, ha a che vedere con chi diventerai. Il vero dono non è quello che ottieni, è chi diventi. E poi il terzo aspetto, anche questo ti prego ricordalo, ricordalo per sempre. Il network marketing è un percorso di crescita personale, travestito da piano marketing. Il piano marketing altro non è che una gamification meravigliosa di un percorso che si chiama vita, che periodicamente, mentre noi cresciamo, ci mette di fronte a un nuovo mostro, a un nuovo drago, come in un videogiochi. A volte il nuovo drago si chiama a fare la lista nomi, e poi si chiama a fare dei contatti, poi a fare dei contatti a freddo, e poi a farsi dare i soldi da qualcuno, e poi a parlare in pubblico, e poi raggiungere una qualifica, e vado avanti, se vuoi, pezzo pezzo, tutto quello che ho vissuto io. E tu non puoi pensare di ottenere di più di quello che sei stato in grado di affrontare. Anzi, magari c'è qualcuno che guadagna più di quello che è diventato, ma è un problema. Noi dobbiamo preoccuparci di fare questo percorso di crescita personale, sapendo che è la roba più bella che accade col network. È il motivo per cui io mi vedete accorato quando parlo di questa attività, mi vedete appassionato quando incontro dei ventenni che iniziano, dei quarantenni che hanno desiderio di tornare a tirar fuori i sogni dal cassetto, oppure anche sessantenni, settentenni che grazie al network hanno la volontà e la possibilità di restituire alle nuove generazioni quello che hanno imparato, perché si chiama network ma significa speranza. Questa cosa mettitela in testa, perché in questo momento storico se c'è una cosa di cui le persone hanno bisogno è tornare a credere che sia possibile, è tornare a credere nei propri desideri, è tornare a credere che se ti fai il culo, se ti sbatti, se ti impegni puoi evolvere, puoi riuscirci in un momento storico, con un modello che ci hanno inculcato in testa che tanto alla fine dipende da qualcun altro, non dipende da noi. Tornare a sperare significa tornare a vivere ed è il regalo meraviglioso nascosto quando si inizia a fare questa attività, perché se ci pensi quando uno inizia in realtà torna a svegliarsi prima la mattina, torna la sera dal lavoro tradizionale, poi si mette di fare appuntamenti, lavora sabato e domenica, viene ai meeting, viene agli appuntamenti, insomma il regalo meraviglioso di questa attività è che si chiama Network, ma significa speranza e noi abbiamo il dovere di andare in giro e dire in questa fase storica che si può, che si può sognare, che si può sperare, dobbiamo.